Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Siamo in Abissinia, che mi chiede di parlare del film del 1956 Alta Società, di Charles Walters, remake di Scandalo a Filadelfia di Cucor, quello sia un capolavoro, questo è un filmetto comunque gradevole e divertente, insomma, con Fran Sinatra, Grace Kelly nel suo ultimo ruolo cinematografico, Bing Combsy e Louis Armstrong. Armstrong è un film che la butta sul musical, sul musicale, chiaramente con vari momenti in cui appunto la musica, il canto di Bing Crosby e l'accompagnamento di Armstrong la fanno da padrone, anche Sinatra, chiaramente per un film che non vale minimamente appunto il grande film da cui è tratto, ma comunque nella storia della Ricca Rosie, interpretata appunto da Grace Kelly, che si lascia dal primo marito musicista, che è Bing Crosby, e che punta a sposarsi con un nobile uomo, interpretato da John Lund. Mentre fa questo però scoprirà di essere ancora attratta comunque dall'ex marito, e alla fine entrerà dentro anche un giornalista, Fran Sinatra, appunto in questa atresca, diciamo. Visto che dovrà seguire appunto la vicenda, insomma, una specie di gossiparo, e piano piano anche lui si innamorerà di Lady, di tutte le situazioni che verranno fino a un ingarbugliato finale. Allora bisogna dire che Grace Kelly, qui all'ultima, diciamo così, suo lavoro, comunque fa un ottimo lavoro a livello interpretativo, così come tutte le altre le canzoni e le parti musicali alzano di brutto il livello, con Louis Armstrong grandioso, un grande Bing Crosby, niente da dire. Per un film che è assolutamente un piccolo cult, del periodo però che ha nella sceneggiatura delle parti veramente un po' abbozzate, un po' a cazzo di cane. Si parte, diciamo, con una specie di soggetto simile a quello di Cucco, per poi buttarla completamente molto più sul leggero e molto più sul musicarello, in un certo senso. Classico prodotto, quindi, del periodo americano, che di solo non genera sorprese, non è originale assolutamente, ma che comunque fa il suo discreto lavoro, portando a casa il risultato senza eccessi, ma nemmeno senza troppe cadute di tono. Però la regia di Walters è buona, il ritmo è quello giusto, non ci si annoia, come ho detto, gli attori se la cavano molto bene e quindi, naturalmente, il film segue tutte le regole dell'epoca, del periodo, delle storie sentimentali e musicali che andavano di voga senza mai cercare di spostarsi, ma regalando anche, comunque, un sufficiente divertimento per tutti quelli che amano uno stile del genere. Non è uno dei miei film preferiti, Scandola a Filadelfia era bene un altro livello, qui ci si diverte, ripeto, i due tipi che con Canori sono ganzissimi, Bing Crosby, Lusarm, Sonfren Sinatra, niente da dire, grandissima, Greschelli che aveva 27 anni e basta questo, ripeto, l'ultimo suo film, per un'opera, tutto sommato, gradevole, per chi ama un certo tipo di musical, chiaramente dove non partono subito a cantare, ma dove ci sono i numeri musicali, per chi ama un certo tipo di commedia romantica degli anni 50, quanta, comunque, è un film che potrebbe piacere le motori più di quanto è piaciuto a me, che, ripeto, l'ho visto due o tre volte nella mia vita, perché fra la televisione, una sega e un'altra, il film passava, insomma, e quindi ho ben idea di cosa sto parlando, però è uno di quei classici film che rimangono, ripeto, in più per ciò che si sente, che per ciò che si vive in un certo senso, nonostante ci sia una bella fotografia di Paul Vogel e che tutte le canzoni, insomma, bisogna dirlo, sono state comunque un po' stracco il Porter, che non è poco, quindi, se vi garba, insomma, un certo tipo di commedia musicale degli anni 50 americana, questo è il film che fa per voi, e se tanto amate comunque anche un certo tipo di musical moderno, io un'occhiata ce la dei, perché comunque il film, a un certo punto, pur non essendo perfetto, assolutamente, comunque è un film che merita un'occhiata. Il link del film è qua sotto, Amazon, per donare su Amazon, seguitemi su Facebook e su Instagram, per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube il Super Grazie, qui sotto c'è anche il link per andare su Patreon per avere la vostra mia recensione, e che direi di più, Wolters 1956 dirige con mano ferma, abbastanza elegante, una commedia tutto sommato scritta così e così, ma che va avanti per la forza degli interpreti e per la forza, insomma, per esecuzioni canore, che sono veramente di un altro pianeta.